Grazie Ren, grazie, grazie a tutti voi e grazie a tutti loro Grazie Ren, grazie Greta ovviamente e dato che loro sono in due abbiamo pensato di fare un pezzo con loro che in realtà ci viene richiesto sempre ma che non abbiamo fatto da tantissimo perché le scalette sono ovviamente quelle che sono quindi insomma sono limitate ma oggi è l'occasione giusta per farla anche perché, piccolo dettaglio, vedete lì che c'è una persona che non si vede lì Ecco, possiamo fare un applauso a Bea? Adesso vi spiego chi è Allora, è una super metallata, diciamo, compriamo, cioè questo è il suo regalo di compilano cioè rendetevi così, è Renzi Bocce, Silvio, Renzi Bocce Vede il suo regalo di compilano, grazie, grazie a tutti E grazie ai genitori che sono proprio dei super metallari quindi il prossimo pezzo, beh perché devo fare tutto io? Beh, dobbiamo innanzitutto chiamare i rinforzi Due Nocturna Yeah! Il prossimo pezzo, tra i nostri preferiti, tra i nostri più amati e finalmente questa sera potremo rendergli giustizia Forever! Forever! È bella! Forse? 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 Grazie a tutti. 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 Vi aspettiamo al banchetto del match che è fuori, lì hanno aperto la parte estiva. Ciao a tutti.